La cellacioli sulle imprese italiane. Si parla di pressione fiscale. Confindustria pubblica i dati sulla ricerca condotta dalla Fondazione Bruno Visentini. I tributi attualmente gravanti sono 40. Il numero annuo di adempimenti fiscali uscilla da 92 a 251 e l'onere complessivo stimato sulla piccola e media impresa è di 29,1 miliardi. A questo si aggiunge che l'Abruzzo peggiora la sua situazione a causa della sanità e del debito accumulato in questi anni. È una fotografia dell'esistente, una fotografia che ahimè ci vede penalizzati soprattutto in Abruzzo per effetto dell'extra deficit sanitario che ha imposto delle maggiorazioni in capo alle imprese, ai cittadini, alle famiglie attraverso le maggiorazioni dell'IRPEF e le maggiorazioni sull'IRAP. Lo sapete che l'IRPEF è una tassa di fatto che grava esclusivamente sul sistema produttivo e che rispetto alle regioni limitrofe, penso alle Marche per esempio, ci vede penalizzati con un aggravio del 24% circa. Più sostegno dalla regione, più semplificazioni per gli imprenditori. Questa la richiesta di Confindustria che chiede di far ripartire il mercato grazie a una diminuzione della pressione per ogni diverso comparto. L'uscita dal commissariamento deve necessariamente coincidere con l'uscita dagli addizionali perché c'è una corrente di pensiero che probabilmente pensa in maniera diversa rispetto a questo problema. Quindi noi insistiamo che le due cose debbano necessariamente collimare. Grazie. Grazie.